A partire dalla stagione 2019, Basfa, azienda leader nei fungicidi della vite, ha deciso di introdurre nella propria linea antipornosporica i prodotti della linea Saviran, che contengono il principio attivo Benelaxil M. Questa decisione è stata presa considerando degli aspetti regolatori e degli aspetti tecnici. Saviran possiede un ottimo profilo regolatorio ed un meccanismo d'azione diverso e complementare rispetto a quello degli altri prodotti della linea Basfa, come Forum, Enervin ed Elan Pro, e quindi si presta a creare delle linee di difesa che siano nel tempo stesso efficaci, sostenibili e convenienti. Saviran appartiene alla famiglia chimica delle fenilammidi, ma rispetto agli altri membri del gruppo possiede caratteristiche che lo differenziano da tutte le altre molecole appartenenti a questo gruppo. In particolare possiede un comportamento nella pianta che possiamo definire di tipo citotropico, translaminare e locosistemico. Questo significa che il principio attivo possiede un ottimale bilanciamento tra la frazione che si lega alle cere della pianta di foglie e grappoli e quindi in grado di proteggere la vegetazione esistente al momento del trattamento e la parte invece di prodotto che si muove in sistemia locale all'interno della pianta. Queste caratteristiche rendono Saviran particolarmente adatto per i trattamenti nelle prime fasi vegetative della vita, quindi per i trattamenti di prefioritura, in quanto il prodotto è poco sensibile all'influenza di basse temperature o piogge che si verificano dopo i trattamenti. Anche nel 2020, in maniera similare alle ultime due stagioni, abbiamo realizzato delle prove parcellari in campo che sono tese da una parte a verificare l'efficacia del prodotto, ma dall'altro a inserirlo nelle nostre strategie di difesa, concentrandosi in particolar modo nel formulato Saviran Star che è la miscela finita di Benalaxil M e Folpet presente sul mercato nella comoda formulazione in granuli idrodispersibili. Nelle prove di quest'anno abbiamo deciso di verificare ulteriormente l'efficacia di Saviran Star attraverso trattamenti ripetuti sempre con lo stesso prodotto. Questa non è una pratica corretta e non è neanche conforme con l'etichetta, però è una modalità sperimentale che ci permette al meglio di verificare l'efficacia dei singoli prodotti. Proprio per questo abbiamo messo a confronto Saviran Star con un testimone non trattato e con un prodotto noto per la sua affidabilità ed efficacia come il Forum Star. Tra le varie prove condotte quest'anno due hanno dato risultati particolarmente interessanti. Una è la prova di Oderzo in provincia di Treviso dove ci troviamo oggi e un'altra prova è stata fatta in provincia di Pordenone a Casarsa della Delizia. In entrambe queste prove c'erano state piovosità estremamente elevate, in particolare nella prima metà di giugno e questo ha determinato un danno estremamente grave sul testimone che ha portato sostanzialmente alla completa distruzione di tutti i grappoli con un'elevata presenza di peronospora anche su foglia. In entrambe le prove la comparsa della malattia è stata piuttosto tardiva in quanto i primi sintomi, in particolare su grappolo, si sono visti nella seconda metà di giugno. Tuttavia in pochi giorni ha avuto un andamento completamente esplosivo portando alla totale distruzione della produzione. In queste condizioni l'efficacia di Saviran Star è sicuramente stata messa a dura prova. In particolare uno dei trattamenti ha dovuto sopportare in entrambe le situazioni circa 200 millimetri di pioggia. Nonostante queste condizioni le parcelle trattate con Saviran Star mostrano un'efficacia pressoché completa su grappolo. Efficacia che è stata verificata essere analoga allo standard di confronto Forum Star. Abbiamo sicuramente la conferma dell'elevata efficacia, resistenza al dilavamento e anche affidabilità di Saviran Star. Qui ci troviamo nell'attesi Saviran. Ricordo che sono stati fatti una serie di trattamenti successivi e ricordo anche che non è la pratica di impiego del prodotto. Come possiamo vedere la difesa tutto sommato è stata diciamo estremamente buona. Non è perfetta rispetto perché l'impiego ovviamente che consigliamo è un po' diverso. Però va ricordato un aspetto interessante che il quarto trattamento, dopo il quarto trattamento, c'è stato diciamo una piovosità molto consistente, quasi 200 millimetri di pioggia, seguito poi a nove giorni dal trattamento successivo. Quindi questo ci dà anche delle indicazioni su quello che può essere un po' stata anche la tenuta e il contributo del prodotto in una situazione estrema come si è verificata. I risultati della stagione 2020 confermono quello che avevamo osservato già nelle due precedenti stagioni e cioè che Saviran è un prodotto che si presta ottimamente ad essere inserito nella strategia di difesa bassa per applicazioni preventive soprattutto ad inizio stagione. Più in generale i risultati di campo abbiamo ottenuto nella nostra sperimentazione e le applicazioni pratiche di questi due anni di commercializzazione ci fanno dire che Saviran è un prodotto assolutamente affidabile per la protezione della peronospora solido ed efficace quando utilizzato in maniera preventiva all'inizio della stagione ma più in generale visto che possiede un'ampia finestra di applicazione anche i momenti successivi del ciclo fenologico della vite.